Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDNA e nel consueto video acquisti mensili, video acquisti del mese di maggio Prima di iniziare voglio solo avvisarvi che domani partirò per andare a vedere il Gran Premio d'Italia al Mugello Quindi per due giorni non ci sarò, mi porterò alla videocamera, vedrò di fare qualche video Magari ve lo propongo appena torno Durante la notte vi lascerò anche il terzo episodio di Watch Dogs Ma andiamo subito in ordine, non c'è tantissima roba quindi sarà un video molto breve Allora, come avete visto ho fatto anche l'unboxing di Final Fantasy Remasterizzato X e XII per PS Vita E poi la Limited Edition per Play 3 che avevo fatto l'unboxing Poi iniziamo con il titolo che ho fatto anche l'unboxing, ovvero Watch Dogs che mi sta facendo veramente un casino anche se devono fixare alcuni problemini tecnici Poi un regalo che mi è stato fatto, perché voi lo sapete che io non sono un amante di Call of Duty Però non è che i regali li butto via, mi hanno regalato Call of Duty Ghosts per PC Gli ho dato un'occhiatina, a me non piace molto giocare nel multiplayer Quindi ho provato un po' la storia e sembra un pelino diversa dagli altri E poi l'unico film in Blu-ray che è un film che è uscito quest'anno di Stallone e De Niro, ovvero il Grand Match Un film molto divertente, ve lo consiglio se volete guardarlo, a me è piaciuto molto Quindi niente, questo brevissimo, brevissimo video di neanche un minuto finisce qua Due minuti scherzi, toh E vi aspetto al mio ritorno, ciao a tutti da GeneticDNA